Se continuiamo i seggi, il Partito Democratico secondo Index ne avrebbe 147 alla Camera, gli altri centrosinistra 9, Leo 25, Forza Italia 133, La Lega 109, FDL 40, Fratelli d'Italia, NCL 12 e Movimento 5 Stelle 143. Nelle coalizioni vediamo che il centrosinistra quindi avrebbe 156 seggi, cioè aggrega poco di più, Leo 25, la coalizione centrodestra 294, Movimento 5 Stelle è sempre 143. A quelli che fanno le manifestazioni, che si autodefiniscono di sinistra, che si autodefiniscono antifascisti, chi picchia un carabiniere non è un antifascista, è un criminale, è chiaro questo? Chi picchia un carabiniere non è un antifascista. Nonostante il giorno di San Valentino la farò parlare di una persona che le ama pochissimo, che è Luigi Di Maio. Lei lunedì sera ha paragonato le parole di Di Maio sulle mele marcia, le parole di Craxi su Mario Chiesa, poi ha ritrattato, perché? No, non è che ho ritrattato, è che si sono offesi gli amici di Craxi per il paragone, quindi mi sono scusato perché non volevo che sorprendessi. Vorrei chiedere scusa. Stiamo parlando ovviamente non della vicenda giudiziaria, non entro sulla vicenda giudiziaria. Non è un problema di vicenda giudiziaria. Non esiste una giudiziaria, perché sono soldi loro quelli lì, parliamo dei 5 Stelle. Non è un problema di vicenda giudiziaria. Poi sui soldi loro, se vuole, parliamo, perché questo loro e nostri, possiamo starci una giornata. Questa storia che il Movimento 5 Stelle restituisce 25 milioni in 5 anni dovrebbe essere accompagnata dal fatto che è bastata una legge del Partito Democratico, quella che ha abolito il finanziamento pubblico ai partiti, per cui ogni anno noi prendevamo 38 milioni di euro e ora prendiamo zero. Tant'è che i nostri dipendenti sono in cassa integrazione purtroppo, perché il PD ha rinunciato con una legge, non con un bonifico taroccaso. Il PD è troppo alto, ne ridò una parte alla collettività, questo messaggio passa molto con gli stadini. Guardi, sì, ma va benissimo, se vogliamo essere demagogici possiamo dire tutto. Io, Presidente del Consiglio, prendevo da Presidente del Consiglio la metà di quello che prende Di Maio, dopo i rimborsi. Cioè, vorrei essere chiaro, lo ridico, quando ho fatto il Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio prende la metà di quello che prende un parlamentare. È una struttura, no? No, io sto dicendo… La responsabilità è maggiore il Presidente del Consiglio, anche risposta al Consigliere regionale. Scusi, scusi, da un anno e mezzo io faccio politica, da quando mi sono dimesso perché ho perso il referendum, senza un'indennità, senza un centesimo di rimborso, senza gravare sulle spese della comunità. Non vengo qui in televisione a dire come sono bello, vivo con i miei soldi del privato, io dico semplicemente faccio il mio servizio di politico. Bene, se tu sei uno dei Cinque Stelle e per cinque anni tutti i giorni in televisione dici che tu sei onesto e gli altri sono ladri, che tu sei onesto e gli altri sono pagati dai petrolieri e dai banchieri, falso, che tu sei onesto e gli altri sono dei mafiosi, falso, se tu dici questo e poi ti beccano con le mani nella marmellata, perché? Hai lo scroccone in lista nel Lazio e lo ritiri, hai quella Novax in lista nel Veneto e cerchi di nasconderla, hai quello che ha taroccato i rimborsi a Pesaro come a Torino e non finisce qui, io suggerirei a Di Maio di dirgli subito tutti perché se no per lui è una via crucis più che una quaresima. Hai quello del Parlamento Europeo, socio di Rousseau, uno dei tre, personaggio anche che dovrebbe chiarirci il rapporto a lui con le fake news, sto dando una notizia, dovrà chiarirci, glielo chieda appena lo trovate, questo signor Borrelli che in quel rapporto... 5 Stelle ci hanno detto che non riescono a parlargli. E' uno dei tre capi di Rousseau, allora a me non interessa la dinamica interna ai 5 Stelle, sono fatti loro, ognuno ha i suoi problemi, anch'io ho avuto a che fare con degli estofanti nel PD, anch'io ho avuto a che fare con degli estofanti e ho dovuto far votare a favore dell'arresto di un deputato del PD che si chiamava Franco Antonio Genovese e l'abbiamo fatto arrestare noi. Detto questo, è finita la bandierina che loro sono onesti e gli altri sono persone per bene. Come fanno a accusare noi quando il PD ha più di 20 indagati nelle liste, forse Italia idem, quando Renzi ha messo in lista Franco Alfieri, quello della frittura di pesce, piuttosto che il figlio di De Luca, piuttosto che Luca Lotti che è indagato, queste cose loro le usano come argomenti. Ma si rende conto di che cosa Barbara lei sta dicendo riportando le frasi di Toninelli? Ma lei si rende conto di che vergogna è questa frase? Io ho fatto il sindaco, il presidente della provincia e il presidente del consiglio, in 13 anni non sono riuscito a prendere un avviso di garanzia, è chiaro? Quindi non parlo per me, neanche un avviso di garanzia, ma questo paese deve smettere con la logica che un avviso di garanzia significa una condanna, perché se continuiamo con questa filosofia qui, noi diamo un messaggio incivile, vediamo di essere chiari, Virginia Raggi non solo ha avuto un avviso di garanzia, ma è a processo per falso, io mi auguro che sia innocente perché sono una persona civile, Chiara Appendino non solo ha avuto un avviso di garanzia, ma l'ha avuto per omicidio colposo, lesioni è falso, io mi auguro che sia innocente, non faccio la campagna sui suoi avvisi di garanzia, Filippo Nogarin, sindaco di Livorno ha avuto un avviso di garanzia per omicidio colposo, vado avanti? Il sindaco di Bagheria per contribuire ad astra, no scusi mi faccia finire, perché su questo tema bisogna recuperare un po' di civiltà, o vale per tutti la stessa regola, o il moralismo double fass che sta mettendo in campo i 5 stelle è insopportabile, io non voglio fare la campagna elettorale su questo, dico a Di Maio sfidiamoci sul futuro dell'Italia, ma quando tu hai detto caro Di Maio per anni che voi eravate quelli onesti perché restituate i soldi e siete circondati dalle vostre persone più vicine, da gente che pensava che gli italiani non capissero, facevano la foto, screenshottavano e poi truffavano, il problema non è del PD, il problema è che 5 stelle non controlla i soldi dei propri rimborsi, come fa a controllare i soldi del bilancio degli italiani? Questa questione dei rimborsi potrà cambiare il corso di questa campagna elettorale? Secondo me dimostra che i 5 stelle sono come tutti gli altri, con tante persone per bene e qualche lestofante, non sono diversi dagli altri, non hanno l'onestà incorporata, come tutti hanno i disonesti e i truffatori, dopodiché alla prova dei fatti sono più incapaci degli altri, perché quando governano le città io dico mettete Firenze con Roma e guardate quale è amministrata meglio oggi, se questo volete discuterne, io ci sono, lei inviti Di Maio e vengo qui, se si vuole parlare invece dei massimi sistemi le dico per me che il PD sarà il primo partito, ed è bene che questo sia un passaggio importante, io dico che se il PD nei prossimi 15 giorni esce da quest'atteggiamento di questi mesi, cosa abbiamo fatto, tira fuori questi documenti, noi abbiamo fatto questo in questi mesi e ha il coraggio di andare casa per casa a parlare con la gente, a dire sì qualcosa abbiamo sbagliato, io per primo qualcosa ho sbagliato, ma abbiamo portato il paese fuori dalla crisi, altro che 5 stelle e finchi onesti e veri truffatori. Io ho la regia, ma devo fare una cosa, perché Renzi ha detto che lui non puzza, quindi io controllo, è la verità, non ha un profumo particolare ma non puzza, e perché l'ha detto? Perché lui vorrebbe molto... Questa è una scena che entrerà nella scena della tv assieme a Bruno Vespa e Silvio Berlusconi, quando Berlusconi dice, senta qua l'odore di santità, si ricorda che... Io non odoro di santità, e stamattina non ho messo neanche profumo. Però non puzza, lo posso testimoniare personalmente, dunque lui dice, se non puzzo, come mai non mi vogliono incontrare per fare i confronti, Luigi Di Maio, Renzi sarebbe prontissimo a fare un confronto con lei, noi saremo felicissimi che veniste a farlo in questa televisione, ma comunque che lo facesse, perché pensiamo che per la democrazia sarebbe un gran bene confrontare le idee e non insultarsi a distanza. Allora, lei sa che io ho una relazione complicata con la Sette, mettiamola così, devo dare atto alla Sette, una volta tanto, che la Sette aveva dato la disponibilità, non soltanto la sua trasmissione, quando Di Maio fece lo show e disse, Renzi, venga a fare il dibattito con me, se ha coraggio, e io gli risposi, ok, per essere sicuro gli risposi via Twitter, talmeno lo vedeva, poi a quel punto ha detto, vieni a fare il dibattito con me, però alla Sette, pensando che io volessi farlo solo alla Rai, io ho detto, ok, vieni a fare il dibattito con me, però alla Sette, però da Floris, ok, martedì alle 21.30, oh, Mirta, io sono andato da Floris, me lo ricordo, ma non c'era Di Maio, è come quel compagno di classe che arriva a scuola e dice, oh, ti aspetto fuori io, poi scendi e non c'è nessuno. E non sa perché ha fatto quella scena, per un motivo, perché ormai si mette in discussione che lei sia il candidato Premier, le faccio vedere una meravigliosa vignetta di Osso che Osso le ha dedicato, guarda quanto è carina, lei sta parlando con Mattarella, Mattarella dice, non lo puoi fare sempre ter Premier, su, e tu dici, oh, io una volta sola l'ho fatto, questo è il quadro, bellissimo.